Quella in corso è una settimana cruciale per la scuola, ricca di avvenimenti e di decisioni importanti. Martedì 19 è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale il decreto rilancio che contiene diverse misure che riguardano la scuola, a partire dall'incremento dei posti messi a concorso, 8.000 cattedre in più per l'ordinario e altrettante per lo straordinario. Ma ci sono anche 331 milioni da ripartire fra le 8.000 istituzioni scolastiche di tutta Italia per garantire l'avvio in sicurezza delle attività didattiche a partire dal settembre prossimo. In pratica si parla di più di 40.000 euro per ciascuna scuola che potranno essere utilizzati per diverse tipologie di interventi. Si va dalla assistenza psicologica fino all'acquisto di dispositivi di protezione o di strumenti per le attività di didattica a distanza. I fondi potranno servire anche per la manutenzione degli spazi scolastici interni ed esterni o per la pulizia straordinaria e per la sanificazione. Il decreto stanzia anche altri 40 milioni per le spese connesse con la organizzazione degli esami di Stato. Esami di Stato che anche a seguito della firma dell'intesa fra ministero e sindacati del comparto potranno svolgersi in presenza a meno che il comitato tecnico scientifico insediato presso la protezione civile non decida diversamente in relazione all'andamento dell'epidemia. A fronte della garanzia che l'applicazione del protocollo di sicurezza definito dal comitato tecnico sarà discussa anche in ogni singola scuola e sottoposta a intesa fra RSU e dirigente scolastico, i sindacati alla fine hanno dato il via libera e la ministra Azzolina ha potuto dichiararsi soddisfatta. Per la giornata di oggi 21 era attesa un'altra decisione importante. Il calendario dei lavori del Senato prevedeva l'esame finale del decreto scuola ma nelle ultime ore la situazione si è complicata parecchio e il provvedimento è ancora fermo presso la Commissione Cultura. Il nodo più difficile da sciogliere resta sempre quello dei concorsi per l'assunzione dei docenti. Le posizioni sono molto lontane, la Lega vuole assunzioni dalle graduatorie già esistenti in modo da accelerare la procedura il più possibile, cercando di mettere in cattedra il maggior numero possibile di insegnanti già a settembre. Il Movimento 5 Stelle è del tutto contrario e resta fermo sulla posizione più volte illustrata dalla ministra Azzolina, concorsi per titoli ed esami che consentano di effettuare un minimo di selezione. PD e Leu non sono d'accordo con la ministra ma neppure intendono sostenere la posizione della Lega nel timore che un passo del genere possa avere ripercussioni sulla tenuta del governo stesso. Negli ultimi giorni si sono susseguiti incontri politici all'interno della maggioranza, ma secondo le ultime notizie senza esiti apprezzabili. A questo punto però i tempi sono davvero stretti, anzi strettissimi, perché per martedì 26 l'Aula del Senato è già convocata per il voto finale e subito dopo il decreto dovrà passare alla Camera, dove è atteso per il 29 maggio, in modo da chiudere tutti i lavori entro la data limite del 7 giugno, oltre la quale il provvedimento rischierebbe di decadere. Sono tutti temi di grande rilievo, di grande importanza, quindi continueremo ad occuparcene. Voi continuate quindi a seguirci su questo canale, ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Continuate soprattutto a scriverci, a inviarci i vostri commenti, noi ne daremo conto come sempre.